Coach Strullo, la palla Canestro Roseto che fa un bellissimo regalo ai propri tifosi vincendo in trasferta ad Ancona un match condotto dall'inizio alla fine soprattutto convincendo un'altra grande prova a livello difensivo. Sì, sono molto contento perché quello che abbiamo preparato in settimana, quello che c'eravamo prefissi abbiamo cercato di riportarlo in questa partita molto molto importante contro un'ottima squadra dopo Fabriano una delle migliori squadre di questo gironcino, 5 giocatori in doppia cifra quindi abbiamo distribuito abbastanza anche in attacco e insomma il lavoro delle ultime settimane dopo un mese che abbiamo fatto allenamenti con 6 giocatori adesso si sta cominciando a vedere. Abbiamo grandi margini di miglioramento, non dobbiamo illuderci, dobbiamo continuare a lavorare così con la stessa umiltà l'importante è che si lavori insieme e soprattutto che sia un atteggiamento come abbiamo avuto questa sera dall'inizio alla fine. Poi probabilmente è stato decisivo l'approccio alla gara, siete partiti subito forte, 16 a 0 dopo appena 4 minuti di gioco con tutti i 5 dello starting 5, tutti a canestro. Sì, dopo le prime due gare dove abbiamo fatto fatica a entrare in partita perché siamo andati sotto sia a Civitanova sia in casa con Iesi di ben 17 punti ci siamo ripromessi insomma nelle ultime gare con Fabriano e con Ancona di partire con un altro piglio e questo insomma ci siamo riusciti alla grande perché siamo partiti con il 14 a 0 poi è chiaro che non potevamo continuare a tenere loro a 0 però dal primo secondo all'ultimo secondo siamo stati sempre avanti e quindi abbiamo vinto secondo me meritatamente. Ecco da pastore ci si aspettava un apporto offensivo maggiore ma è quello che sta dando l'apporto difensivo in termini di difesa sui migliori marcatori della squadra avversaria maggiore. Oggi 100 anni è stato tenuto nella seconda parte di gara a pochi spiccioli. Sì lì abbiamo fatto un lavoro sia individuale che di squadra perché avevamo deciso anche di raddoppiarlo sui pick and roll Pastore onestamente è uno sicuramente la sua dote maggiore è quella di far canestro da tre punti però è uno che ha cazzimma è un giocatore che ci dà tanto anche in difesa e quindi anche il giorno che non fa canestro può essere utile anche in altri aspetti e quindi sono insomma sono contento che Pastore oggi abbia non solo difeso recuperato palloni ma si è sbattuto come fa sempre insomma ma devo dire che non solo Pastore oggi è tutta la squadra che ha lavorato bene quindi sono contento di tutti quelli che sono entrati in campo anche per i pochi minuti che hanno giocato grazie a tutti grazie a tutti